bella a tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo a reattare al plugin di rondo da sosa io col cominciare spiegherei un po che cos'è questo tipo di forma diciamo che la cosa che più si avvicina in italia è real talk ok solo che la differenza è che questo è stato da fumes di engineer che è un produttore inglese e che appunto è nato in inghilterra come tipo di proprio contenuto lì è una roba che va molto forte c'è abbastanza hype sono tantissimi artisti inglesi che hanno partecipato per citarne uno vi direi schepta però ultimamente iniziano ad esserci anche rapper europei un'altra piccola differenza è che è a sfondo drill quindi c'è un po questo concept qui rondo da sosa è il primo italiano a partecipare e questo per noi proprio come paese è una cosa più che positiva nonché un'altra occasione per metterci in mostra a prescindere da chi ha partecipato poteva essere un altro ce ne sono più forti ce ne sono più scarsi questo non conta diciamo che se c'è una cosa da riconoscere a rondo e che sta creando un po di connessioni in giro per l'europa e quindi se siamo lì oggi grazie a lui io a questo punto andrei subito a spararmi il video l'ultimo rapper che ha fottuto con me ora non canta più non penso ai miei ops quando sono in inghilterra ti ho lasciato farle dirette ti sei divertito non potrai farle dirette quando sarei di un bosco solo perché mi odi stupido non mi fa un po cagare madonna però ok qua va meglio non riesco a sentire il flow ma dubito ma ragazzi non lo so mi correggo subito su una piccola cosa fiumes d'engineer così come dice anche il nome è un ingegnere del suono quindi essenzialmente fa il mix finale e immagina un po curi tutti i dettagli delle canzoni però così come abbiamo sentito anche all'intro di questo plugin la produzione è di anche io il produttore che poi con Rondo ha già avuto modo di lavorare tante volte detto questo posso dirvi sinceramente cosa ne penso di questo freestyle mi ha fatto un po cagare e no non perché si tratta di Rondo ho capito che lui ormai come artista probabilmente non mi comincerà mai del tutto ma sinceramente tutta la prima parte per prima parte intendo la parte in italiano ha avuto un solo flow che a me ha fatto cagarissimo i testi sono sempre quelli di Rondo di cui io già non sono un grande fan però ci mancherebbe altro stiamo parlando di drill il testo non è la prima cosa fondamentale però sinceramente proprio l'ho trovato scarso tecnicamente la prima strofa della prima parte proprio flow per tutta la durata è stato sempre sempre quello la seconda poi varia un po e c'è la parte in inglese la parte in inglese ok vi dico la seconda parte della parte in inglese quante cazzo di parti sto dicendo l'ho trovata un pochino più fire però secondo me il problema principale di chi è italiano o comunque non è inglese americano o inglese d'inghilterra è che si sente che l'accento non è madrelingua e quindi di conseguenza per quanto mi riguarda a livello di sound trovo un po tutto fastidioso chiaramente lui è abile anche nel rappare in inglese perché è andato anche piuttosto veloce sa scandire bene le parole poi lui già insomma fece un freestyle tantissimo tempo fa sul suo instagram ci sa fare per carità però si sente che non è inglese americano o inglese d'inghilterra e mi fa un po cagare perché l'accento si sente che è diverso non so come farvelo spiegare proprio una questione d'orecchio quindi se siete fan di rondo e già vi piace di base il suo stile questo freestyle molto probabilmente l'avete trovato una hit perché è proprio così come è rondo però a me che già di base lui non mi fa impazzire onestamente mi ha fatto un po cagare tutto qui sono felicissimo per quanto riguarda l'italia nel senso che è un'ottima opportunità per metterci in mostra per far sentire agli altri che ci siamo anche noi che anche noi abbiamo una scena rap e sono contento anche per rondo perché a prescindere dal personaggio è un ragazzo di 20 anni che sta arrivando con la musica in pochissimo tempo molto lontano quindi da questo punto di vista credetemi sono contentissimo per entrambe le cose il risultato non è proprio come speravo quindi da quel punto di vista avrei voluto far qualcosa in più ma se ad oggi l'italia sta lì nel plugin sta lì fiumes engineer conosce che c'è rondo da sosa che c'è in italia una scena drill ripeto è proprio grazie a lui io ammetto anche di non essere un gran fan della yuki drill è un tipo di sound che non riesce ad entrarmi nell'orecchio preferisco molto di più le sonorità americane come tipo di slang di pronuncia è davvero tutto e invece sto notando che rondo specialmente negli ultimi tempi si sta avvicinando molto di più a quel tipo di sound ed immaginario e quindi questo potrebbe essere un altro motivo per il quale non sono riuscito ad apprezzare il suo freestyle non so quanto durerà questo video quindi ne approfitto per spammare un po le mie playlist le trovate in descrizione mi raccomando rap americano rap italiano emergenti americani e tante altre tutti i link sono qui sotto così come quelli dei miei social mi raccomando seguitemi se vi interessa il canale se volete rimanere aggiornati su ogni tipo di video che esce ma lì parlo anche un po di musica e altre cazzate quindi mi raccomando io vi consiglio di seguirmi se il video vi è piaciuto vi invito chiaramente lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutto scrivetemi nei commenti quello che il vostro pensiero su questo plug in di rondo siete contenti che ci sia finalmente un italiano a rappresentarci vi è piaciuto il freestyle vi aspettavate di più oppure come me non vi ha convinto del tutto condividete questo video con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat slat